Che si sventola in piazza il fanciere Passaggi Festival, l'appuntamento con la saggistica italiana in programma a Fano dal 26 al 30 giugno raddoppia con l'arrivo di fuori passaggi Si tratta di un nuovo contenitore condotto dallo scrittore e autore tv Matteo Bibianchi che sarà dedicato ad una fascia di pubblico giovane una sorta di villaggio artistico-culturale dove incontrarsi, dibattere, ascoltare buona musica e mettere in comune idee e passioni Quindi vorremmo andare in una direzione che sia più appunto verso i giovani e quindi con ospiti musicali, con ospiti televisivi, con ospiti che vengono dal web cioè quei linguaggi che interessano oggi i ragazzi e che possono essere comunque interessanti da esplorare perché comunque anche questi personaggi che loro conoscono da lontano poi hanno delle esperienze interessanti da raccontare Di format Vincenti Bianchi se ne intende è autore di trasmissioni di successo come X Factor e poi c'è Cattelan e quelli che è il calcio andati in onda sulle piattaforme Sky e le reti nazionali oltre ad essere scrittore e videomaker è presentatore ed organizzatore di diverse rassegne culturali quindi uno che la materia la mastica da entrambi i versanti sotto la sua regia ci saranno le leve giovani di passaggi che avranno il compito di gestire il format la differenza tra passaggi e fuori passaggi è il tono il linguaggio che sarà più colloquiale e amichevole L'obiettivo è proprio quello di aumentare la copertura anche di pubblico intercettare nuove generazioni che come ho ripetuto prima in conferenza altrimenti al festival non verrebbero però senza come dicevo appunto prima senza andare a perdere quell'identità che contraddistingue appunto il festival senza defenestrare appunto la centralità del libro che continuerà a vivere come continuerà a vivere comunque la riflessione sui piccoli e grandi temi che agitano il nostro presente precario da giovani diciamo Abbiamo deciso di creare questo salotto un salotto appunto a cielo aperto dove volevamo che questi linguaggi dialogassero tra loro e quindi adesso vedremo questa è una sfida e speriamo di riuscire a superarla Fedele alla sua filosofia di espansione e di coinvolgimento di più parti della città passaggi sia propri anche di un nuovo salotto buono della città rimesso a lucido di recente il Pincio facendo salire così a quattro le location della manifestazione Piazza 20 Settembre, San Francesco, Mediateca Montanari e Pincio quindi tutte attive quasi in simultanea creando così una sorta di circolazione virtuosa dei partecipanti in tutta la città che si potranno così spostare da una situazione all'altra scegliendo di volta in volta il contenitore con la proposta che più gli aggrada